Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore, osservi i miei comandamenti. Perché? Ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino. Legatele al colo e scrivele sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Come Ruth Anester, noi vogliamo trovare buon senso, piacere, grazie a favore agli occhi degli uomini, ma anche agli occhi di Dio. Quindi, domanda, che cosa dobbiamo fare? Semplice. Noi vogliamo mettere attenti nostra vita a tutto l'insegnamento di Dio. Vogliamo che l'insegnamento di Dio sia parte di nostra vita. Fare tutto quello che ci dice. Averlo dentro il nostro essere interno, ma anche nel nostro mondo esterno. Non solo una roba secreta, ma anche pubblica. Sapendo che cosa dice la legge di Dio. Se noi facciamo questo, qui i proverbi ci parla che quando noi avremo una crisi, un problema, una situazione difficile, noi trovaremo, dice qui, bontà e verità non ci abbandonaranno. Loro saranno parte di noi. Spero, prego, che voi avete letto il libro di Ruth Anester. Due donne che in tempo difficile di crisi hanno potuto diventarsi da essere nessuno a una persona importante. Della povertà alla prosperità, dell'oscurità alla luce, della insignificanza a essere una persona significante. Hanno fatto un salto grande nella loro vita. Perché? Perché erano donne che avevano temore di Dio. Hanno messo la legge di Dio dentro di loro. Hanno riscattato la loro vita e la vita di altre persone. Hanno prosperato. Perché? Perché la legge di Dio è quella la risposta. Se io faccio questo, è ovvio che io troverò grazia, favore agli occhi di Dio. E se io trovo grazia, favore agli occhi di Dio, chi può essere contro di me?